ciao mi chiamo chiara tei ho 17 anni vengo da parma sono nata il 23 giugno del 1999 il mio soprannome è chiaretta oppure chia ho scelto il beach perché ho capito che a differenza c'è la differenza della pallavolo mi fa provare delle emozioni diverse e anche più belle ho capito che era il mio sport cioè era il mio sport una mia caratteristica particolare del beachvolley è soprattutto la battuta ma anche la difesa obiettivi e migliorare sempre di più per arrivare a livelli sempre più alti nel beachvolley la campionessa cui mi spiro è la vincitrice delle olimpiadi laura ludwig il mio sogno ovviamente sono le olimpiadi ma è tutto da vedere a